Salve, la parola chiave di oggi è partecipazione, una parola che certo non è dimenticata nel linguaggio della vita pubblica, ma che è il caso di guardare con attenzione. Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è uno schema concettuale, un paradigma, un modello, come preferite chiamarlo, che tutti abbiamo in testa quando parliamo di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, alla vita politica. È uno schema che spesso è implicito, qualche volta è esplicito, di cui mi è capitato già di parlare, e che è quello del sistema politico. Tutto ruota, tutto il linguaggio, il discorso della partecipazione ruota attorno al sistema politico, cioè un sistema che vive in un ambiente che è quello della comunità dei cittadini, della comunità politica, che vive in interazione con questo ambiente, raccoglie da questo ambiente degli input, che sono sostanzialmente domande, richieste di attenzione, richieste di tutela di interessi, oltre che attraverso l'esercizio del voto, di sostegno in generale, di legittimazione del sistema istituzionale. Questi input vengono mandati dai cittadini prioritariamente attraverso il voto e grazie alla mediazione dei partiti che raccolgono tutti questi input, li organizzano, li portano nel sistema politico, dove ci sono anche naturalmente i governi, le assemblee elettive, eccetera. Il sistema politico raccoglie questi input e li traduce in output, che sono decisioni politiche, leggi, atti amministrativi, politiche pubbliche, che successivamente il sistema istituzionale, l'amministrazione in senso stretto, ma anche la giurisdizione ad esempio, hanno il compito di tradurre in pratica. In base al modo in cui i loro input, le loro domande sono state raccolte tenute in conto, i cittadini alle elezioni successive pregneranno o puniranno il governo che le ha assunte e questa è la funzione del voto. Nel linguaggio comune noi ritroviamo questo schema in modo implicito. Ogni volta che un candidato alle elezioni dice voi cittadini fate le domande, noi diamo le risposte, oppure noi governo dobbiamo rispondere all'esigenza del paese, eccetera, è questo schema che c'è in testa. Bisogna ricordarselo sempre, perché questo schema implica dei ruoli precisi dei cittadini e anche una definizione della partecipazione, partecipazione come sforzo, impegno per influenzare le decisioni politiche, lì dove il potere politico si esercita. Fatto questo prioritariamente attraverso le elezioni animate dai partiti politici, tutto il resto, quasi tutto il resto è classificato dalla dottrina come partecipazione non convenzionale, cioè residuale e un po' marginale rispetto alla prima. In fondo già questa definizione non convenzionale ci dice che per la dottrina tutte le altre cose sono in realtà non qualcosa. Che cosa è previsto che i cittadini facciano oltre al voto? Tre cose principalmente. La prima, protestare attraverso i movimenti, altra parola che meriterebbe attenzione, tutelare i loro interessi attraverso organizzazioni di interesse come i sindacati, le organizzazioni di imprenditori, eccetera, interessi legittimi naturalmente, e dare vita ad associazioni che sono palestre della democrazia. Questa espressione ripresa da Tocqueville che non fa diciamo molto giustizia a Tocqueville stesso che aggiungeva anche che le associazioni dei cittadini servono per difendere le ragioni dei più deboli di fronte ai più forti, ma insomma c'è questa idea per cui in pratica un'organizzazione che si occupa dei diritti di persone con disabilità in realtà sta facendo una specie di ginnastica democratica, si sta preparando a qualcos'altro che è la cosa veramente importante. C'è qualcosa che non va in tutto questo. Che cosa inoltre non va? Non vanno molte cose nel raffronto tra la realtà e questo modello del sistema politico. voglio solo sottolineare due punti per ragioni di tempo. Il primo è che i sistemi politici non sono isole. Vivono in un mondo in cui ci sono altri sistemi politici perché la politica è globale, ci sono una quantità di altri attori pubblici, privati, sociali, civici che interagiscono con i sistemi politici ed esercitano il loro ruolo di governo, le loro funzioni di governo in relazione o anche a prescindere o contro i sistemi politici. Quindi noi dobbiamo guardare meglio a come sono fatte le istituzioni del governo nel mondo di oggi. E inoltre, l'altro punto che voglio sottolineare è che le forme di partecipazione non convenzionale stanno decisamente in migliore salute di quelle convenzionali. Qui vedete che in Italia, secondo l'Istat, i cittadini che collaborano a organizzazioni civiche sono molti, ma molti di più di quelli che collaborano ai partiti. E vedete anche che il numero di persone che sono attive nelle organizzazioni civiche, prendo solo questo esempio, hanno avuto uno sviluppo incredibilmente rilevante a partire dal 1970, al decennio 70-79, fino al 2010, quando i dati sono disponibili. Ma ci dà l'idea che questo non qualcosa sta meglio del qualcosa. Dobbiamo quindi guardare diversamente, cioè cercare di non chiuderci gli occhi utilizzando un paradigma, un modello canonico di partecipazione che non ci aiuta a vedere la ricchezza della partecipazione che c'è oggi. Niente da dire naturalmente sul sistema politico, che è un'invenzione che ha garantito, garantisce l'esercizio della sovranità su base di eguaglianza e quindi è fondamentale per le democrazie. Il punto è che se non guardiamo oltre questo modello, se non rinunciamo a pensare, a guardare la realtà solo attraverso le lenti di questo modello, noi ci perdiamo delle cose molto importanti. Che cosa? Proviamo a guardare, a utilizzare una definizione più ampia e comprensiva di partecipazione, che non è un modello ideale, ma è quello che emerge osservando e studiando la realtà. E allora possiamo considerare la partecipazione come il concorso dei cittadini alla definizione, alla messa in opera di finalità, standard, regole di convivenza e cooperazione, di mobilitazione di risorse, connessi all'interesse generale, attraverso una molteplicità di forme, procedure, modalità operative e di carattere collettivo che consistono nell'esercizio di poteri nella scena pubblica e nei conflitti che in essa hanno luogo. Voglio mettere l'accento su questa molteplicità di forme e poi sul tema dei conflitti, che mi sembra molto importante. Per quanto riguarda le forme, questo è una organizzazione, una classificazione della struttura delle opportunità di partecipazione che si può trovare in Italia e in Europa, in generale nelle democrazie consolidate, in cui oltre alle forme convenzionali di partecipazione elettorale, ai partiti, la democrazia diretta, cioè il referendum, le leggi di iniziativa popolare, ci sono molte diverse altre forme di partecipazione, la cittadinanza attiva o attivismo civico, la mobilitazione nei luoghi pubblici, come nella immagine con cui ho aperto questa conversazione, quella delle manifestazioni di se non ora quando, la partecipazione digitale, che è un grande mondo abbastanza sconosciuto, la democrazia partecipativa, cioè quella promossa dalle amministrazioni, in chiave di consultazione per esempio, e anche la partecipazione promossa da gruppi di interesse economico, come i sindacati per esempio, non quelle forme che riguardano la tutela di legittimi interessi di questi gruppi, dei gruppi sociali di riferimento di queste organizzazioni, ma che riguardano temi di interesse generale. Non c'è il tempo per fare una panoramica anche dei dati a disposizione su queste diverse opportunità di partecipazione, ma c'è una cosa che tutti voi potrete cogliere se farete questo esercizio, e cioè che la partecipazione in Italia, a differenza di quello che si dice, non è affatto in crisi. È invece forte, diffusa, con molti problemi naturalmente, ma tutt'altro che in crisi. C'è una sola forma di partecipazione che è in crisi in Italia, la partecipazione ai partiti. Tutto il resto è invece sicuramente vitale e dinamico e anche rilevante con effetti che si possono saggiare. L'altro tema che mi sembra importante per allargare il nostro sguardo è il tema del conflitto. C'è una certa abitudine a pensare che il conflitto sia una patologia della vita pubblica, è anche un po' un complesso che hanno per esempio una parte delle organizzazioni civiche che hanno un ideale di armonia, la partecipazione come armonia. No, la partecipazione è conflitto, è conflitto tra soggetti che si contendono delle risorse materiali o immateriali, interessi, ma anche valori. Pensate a tutti i conflitti che riguardano il fine vita, le questioni di politiche pubbliche che riguardano l'etica. La partecipazione è anche prendere parte a un conflitto o dare vita a un conflitto molto spesso. C'è quasi sempre un conflitto nascosto nella partecipazione e che spesso si fa finta di non vederlo. Se noi continuiamo a pensare che l'arena, l'unica arena possibile, l'unica arena vera della partecipazione sia quella elettorale, ci condanniamo a non vedere delle altre cose importanti. Per questo io credo che sia utile che noi guardiamo la partecipazione in diverse arene, tre in particolare mi sembrano le più rilevanti. La prima, naturalmente, è l'arena politica elettorale, la competizione tra i partiti e le coalizioni per ottenere la maggioranza nelle assemblee elettive, insediarsi al governo, e qui la posta in gioco appunto è l'egemonia nel sistema politico o il governo del sistema istituzionale. I cittadini ci stanno al di là del voto, naturalmente sì, ci stanno. Pensate alle sardine nelle elezioni regionali dell'Emilia Romagna o alla mobilitazione digitale sul referendum costituzionale del 2016. Una seconda arena è quella del dibattito pubblico, quella in cui vengono proposti, discussi, diffusi valori e interessi di cittadini e in cui la posta in gioco è la definizione dell'agenda pubblica, cioè quali sono le cose importanti per la vita del Paese, in cui vengono affermati e diffusi significati, valori e anche standard di comportamento, cioè cambiano i comportamenti della intera collettività o di gruppi sociali rilevanti e in cui vengono riconosciuti interessi non considerati. Gli esempi si potrebbero sprecare, questa immagine si riferisce al Disability Pride, il grande movimento per i diritti dei disabili che ha davvero cambiato il senso comune, i comportamenti di tutti i Paesi democratici, anche dell'Italia. E c'è una terza arena che è quella delle politiche pubbliche, quella in cui vengono promossi, progettati, realizzati, valutati programmi che sono volti ad affrontare una questione di interesse comune, che sia un problema o sia un'opportunità, che di solito vengono realizzati sotto legge da delle istituzioni pubbliche, ma sempre di più vengono realizzati direttamente dai cittadini in forma organizzata. Qui la posta in gioco è naturalmente la definizione delle priorità del governo, quelle che devono essere tradotte in progetti, in azioni, in mobilitazione di risorse, in regole del gioco nuove, in nuovi comportamenti, in nuove pratiche per cogliere opportunità oppure per fronteggiare problemi di interesse comune, avendo l'occhio non all'output, agli output, cioè agli atti, alle decisioni, ma invece avendo un occhio agli effetti concreti che si producono nella realtà, che sarebbero poi gli outcome. Gli esempi si sprecano, anche qui questa immagine fa riferimento al programma sulla sicurezza degli edifici scolastici, all'iniziativa sulla sicurezza degli edifici scolastici, che ha ormai una lunga storia. Quello che è importante sottolineare è che queste arene sono in relazione tra loro, ma sono indipendenti. In alcuni casi delle questioni attraversano le diverse arene, per esempio l'immigrazione è un tema che è presente nelle tutte e tre le arene della partecipazione politica, ma in altri casi ci sono questioni che restano solo in un'arena, come per esempio la questione della rigenerazione urbana, che ha una prevalenza nell'arena delle politiche pubbliche, di meno in altre arene, e altre invece che nascono e poi si trasferiscono in un'arena, si trasferiscono in altre. Il tema dei diritti delle persone con disabilità, nata nell'arena delle politiche pubbliche e poi diventata anche materia di politiche pubbliche, ma mai materia elettorale. Nessuno ha mai vinto o perso le elezioni sul tema dei diritti delle persone con disabilità. I processi di cambiamento che avvengono grazie alla partecipazione possono avvenire anche in una sola di queste arene e gli attori della partecipazione sono presenti in tutte le arene con diversi livelli di rilevanza. Sappiamo che i cittadini come elettori, o dal di là di quando votano, hanno un peso abbastanza modesto nell'arena politica elettorale, molto più nelle altre due aree. Per concludere, questo che è solo un invito a guardare diversamente, a non subire le costrizioni, i vincoli che impone l'assunzione di un modello ideale, quello del sistema politico, con tutto quello che ne discende, rispetto alla possibilità di vedere la ricchezza che c'è nella realtà e le opportunità che ci sono. Questo è il mio messaggio. E l'ultimo, in fondo, che consegue da tutto questo è un invito molto semplice di non dimenticare mai che il modo migliore di partecipare è vincere, esattamente l'opposto del motto che guida le Olimpiadi. Grazie, arrivederci.